Amici di milan.soccer eccoci ancora insieme un nuovo appuntamento dedicato all'informazione rossonera. Allora prima di cominciare ricordo una piccola ma grande opportunità per tutti voi perché questo sia davvero il vostro canale come dico sempre cioè la possibilità di mandarci un videomessaggio è facile mandatelo in verticale mi raccomando all'indirizzo milan.soccer.officialchiocciolagemail.com e noi lo pubblicheremo auguri a qualche milanista parlate del milan della situazione attuale fate conoscere il vostro milan club il vostro canale qualsiasi cosa l'importante è stare tutti insieme e stare uniti e non dividerci come vedo fare in molti altri posti vabbè detto questo vi ricordo di iscrivervi è facilissimo è semplicissimo oggi potremmo arrivare già a 15.000 e sarà uno spettacolo perché ho preparato un video un po particolare e un pollicione a questo video allora cominciamo subito 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 c'è una strana classifica che mi ha incuriosito perché da sempre abbiamo questa immagine no quando vediamo una partita del dell'arbitro dell'arbitro che è una figura un po particolare perché perché abbiamo sempre visto come colui che decide le sorti di un di un di un campionato noi ne abbiamo avuto dimostrazione negli anni precedenti anche quest'anno insomma troppa importanza io non so bisognerà trovare qualche soluzione e soprattutto non solo qualche importanza troppa importanza ma soprattutto troppo cari e sì perché pensate che l'arbitro che ha preso meno quest'anno è davide massa con 167 mila e 200 euro intanto vi faccio salutare dalla direttrice un saluto dalla direttrice ciao a tutti ritorniamo qua quindi 167 mila 200 euro il decimo più pagato la classifica vede doveri al primo posto con 190 mila euro mariani 188 guida 184 pairetto 180 e via discorrendo quindi siamo diciamo così a un costo davvero importante lo dico perché c'è sempre quest'aurea attorno all'arbitro di soggetto intoccabile poverino no poverino questi si beccano 18 mila euro al mese insomma poverino mica tanto per fare come dire gli autorevoli gli autoritari eccetera eccetera vabbè lasciamo perdere tanto ci siamo capiti che cosa ci vogliamo dire giusto non lo diciamo apertamente perché ogni tanto evitiamo che qualcuno però insomma c'è anche da dire che il milan in questo momento se ne sta un po cercando è su francamente francamente io sono a quanto in imbarazzo e io sono uno che si preoccupa molto molto tardi cioè proprio vedo sempre lo spiraglio la via d'uscita ieri qualcuno ha scritto a se ti vedo mi tocco le palle guarda io mi auguro che tu te le tocchi quando vedi una bella donna piuttosto che guardare a me insomma d'accordo anche perché se tu vuoi essere come dire un altro alliscia alliscia pelo ce ne sono tanti di canali che allisciano il cielo vai lì vai lì che qui non ci interessi lì scia pelo li mandiamo da un'altra parte qui bisogna dire come stanno i fatti e infatti i fatti stanno così stanno così i fatti cioè che noi siamo diventati una squadra di bassa classifica di media classifica perché quando tu vai al feinrub e vai a trattare gimenez che è il nostro prossimo obiettivo adesso il nuovo obiettivo in attacco ma non c'è solo lui perciò c'è la copertina e tu ti fai trattare a pesci in faccia perché loro ne chiedono 35 tu ne vuoi dare 20 è chiaro che tu dai un messaggio evidente di una società che non vuol vincere poi ci sono i perdenti come te che va bene va bene così io non sono un perdente quindi per me non va bene così questa è la verità e basta andiamo a prendere gimenez per carità per carità un buon giocatore 23 anni insomma è uno che quest'anno ha fatto bene insomma si è fatto anche 30 partite 23 golle 6 assist sto guardando un po' quelle che sono le caratteristiche è anche un giocatore fisico è uno nazionale gioca con la nazionale con doppia nazionalità messico italia ma francamente al di là della fatto della nazionale che mi interessa molto poco visto anche la partita di ieri è stata noiosa ma io ho visto ho visto portogallo il portogallo visto le au ma al di là di questo arriviamo a conte perché il messaggio di conte chiaro conte voleva il milan ibrahimovic voleva conte ibrahimovic non conta nulla all'interno della società nulla anche all'interno della consulenza con gerry cardinale gattino bagnato via a bordo strada abbandonato sull'autostrada così a ibrahimovic il gattino abbandonato sull'autostrada si è deciso per fonseca oggi avevo dato anche un 3 per cento ma adesso stanno stiamo ritornando al 2 1 0 perché mercoledì ci sarà poi mercoledì sì in settimana ci sarà l'annuncio ma la questione di conte è questa cioè conte ora sta andando a prendere gli obiettivi che all'inizio il milan voleva perché de laurentis vuole ricostruire un napoli forte e gli obiettivi quali sono il primo e buongiorno con il buongiorno ce lo potremmo scordare se facciamo queste trattative anche perché cairo non ci fa sconti quindi noi ce lo potremmo ce lo possiamo scordare se facciamo trattative partendo decisamente da lontano rispetto al napoli e quindi conte va sugli obiettivi che erano gli obiettivi del milan di braimovic e di braimovic conte e su tutti buongiorno inoltre ieri è girata la voce di lucaco al milan ci risiamo un'altra volta c'è chi l'anno scorso ci ha fatto tutta l'estate come il motivetto quel motivetto fastidioso di canzoni spagnoli che ci accompagna per 90 giorni no lucaco al milan era è una voce tra virgolette concreta ma la verità è che il milano vuole in prestito ma in prima in prima battuta c'è ancora conte cioè ora conte lavora per un'altra squadra e conte che lavora per il napoli è un avversario in più per cui noi non consideriamo nemmeno il discorso di valutare quelli che sono i nostri cosiddetti competito cioè quelli che fanno squadre per vincere noi non facciamo squadra per vincere io sono il primo a voler dare le notizie di una squadra vincente di una squadra che dimostra tutta la sua forza di una squadra che vuole tornare a vincere davvero di una squadra che prende un top player di una squadra io sono il primo il primo io vivo di milan non vivo che di milan quindi voi davvero pensate che l'entusiasmo possa arrivarmi da una trattativa arenata con gimenez del feinrod no no oppure il fatto di vedersi soffiare ogni volta come quando fu di barella barella lo voleva gattuso al milan già all'epoca pensavamo in maniera mediocre e non vincente come quello che piace a qualcuno di voi già all'epoca e ci siamo fatti sfuggire lui ci siamo fatti sfuggire lo possiamo dire in famiglia tra di noi ci siamo fatti sfuggire c'è la noglu c'è la noglu c'è il piede ragazzi poi ci sta io ho fatto un giorno intero a urlargli contro nel derby però c'è piede ogni calcio d'angolo che batte è un rigore e quest'anno ci stiamo facendo sfuggire tutti gli obiettivi vedremo sir così sono due mesi di trattativa stanno chiudendo tutti affari noi siamo ancora lì io spero che nel prossimo video si possa dare qualche altra informazione un po più affascinante rispetto a questa però oggettivamente in questo momento sono così i fatti e quindi bisogna riportare che in questo momento come abbiamo deciso di scrivere in copertina conte ci manda un messaggio e cioè avete fatto male a non prendermi ora vi faccio vedere che cosa combino con napoli e tutte quelle cartucce buongiorno lucaco ed altri tanto per dare dei simboli perché vedrete quel cosa arriverà che conte non è uno che sta zitto è conte non è uno che si accontenta dell'attaccante vice dell'attaccante di un campionato indonesiano perché noi fra un po' andiamo a prendere i giocatori in indonesia così apriamo al mercato indonesiano vabbè il calcio mercato è cominciato cominciato nel senso che è entrato nel vivo speriamo diciamo così nelle prossime ore di vedere qualche colpa sorpresa e magari facci rimanere tutti a bocca aperta però ragazzi se non speriamo un pochettino quindi un po' di speranza ce l'abbiamo fino a quando non chiudono contratti con karstganov zvaitvic del del kvarakreit a un milione di euro ciao